guardate come posso fare piano il mio dinosauro sta dormendo dormi dormi piccolino oh meno male dorme chi vuole venire con me? steven attento mettiti il casco per favore aspetta steven hai sentito quello che ha detto maria? ok va bene tieni così non ti farai male oh steven ti sei fatto male oh sono a posto mi sono messo il casco mi sa che io non sono a posto barbie ti senti male? chiamiamo il dottore no prima chiama teresa perché non possiamo lasciare i bambini così ciao teresa potresti venire un attimo all'asilo sì sì barbie si sente male ok teresa verrà tra poco io nel frattempo chiamo l'ambulanza buongiorno sì vi aspettiamo all'asilo barbie si sente male sì arrivederci grazie barbie che hai? che succede? potresti rimanere qui con i bambini noi andiamo dal dottore oh sta arrivando l'ambulanza ragazzi andiamo a mangiare tranquilla barbie i bambini sono a posto e io vengo con te ah ecco l'ambulanza barbie tranquilla ci vediamo all'ospedale oh sta arrivando qualcuno anche io sono qua buongiorno barbie come stai? vieni qui ti aiuterò facciamola sedere qui sediti qui barbie tranquilla tranquilla vieni qui e adesso mettiti qui così mi sa che stai partorendo barbie oh davvero? stai tranquilla maria tutto andrà benissimo ancora un po' tranquilla tranquilla respira respira barbie maria portami un pannolino per favore sì sì un attimo questo qua? sì va benissimo avete sentito? è il bambino congratulazioni barbie è un maschio oh vieni qua piccolo laviamolo così quanto sei bello vieni qui bellino barbie vuoi vedere il tuo figlio? sì tienilo amore quanto sei bello amore allora il bambino 58 centini il peso vorrei dire a Teresa e ai bambini che è nato il mio figlio sì chiamiamo Teresa pronto? Teresa? ciao ti faccio vedere barbie ciao Teresa guarda e il mio figlio ciao e il mio figlio ciao barbie congratulazioni ciao barbie ciao piccolino tutti sono così felici ciao ragazzi che devo dare da mangiare al bambino ciao e anche con voi ragazzi ci vediamo molto presto ciao ciao allora ti chiamerò ti chiamerò boh non lo so oh magari oggi ci conosciamo il mio bambino piccolino tengo il mio diario come ti chiameremo bambino oh oh ops aia 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 che male ciao Chris e dove è barbie abbiamo detto che ci vediamo qui non lo so non è passata ancora che strano è molto puntuale di solito barbie ciao che succede? oh maria che succede? mi sa che barbie sta partorendo andiamo aspetta andiamo con l'ambulanza ok aia oh oh tranquilla barbie siamo qui Chris come sta? calmati maria ora vediamo il bambino si sente bene ma mi sa che stai partorendo allora andiamo subito in ospedale eh però è troppo tardi cosa? allora vi aiuterò allora mi serve un asciugamano pulito e un po' d'acqua certo un attimo tieni Chris così un cuscino per te barbie così grazie maria ah 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 non ti preoccupare barbie andrà tutto bene respira barbie respira barbie non ti preoccupare sono qui tanti auguri barbie è un maschio oh amore di mamma ti chiamerò Marco e adesso andiamo in ospedale per controllare la salute del nostro bambino mettiamo il bambino qui ehi ciao bello uh 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 vieni qua piccolino ah quanto sono felice misuriamo il peso quattro chili sì bel grandino il cuore sta bene anche la pressione è normale e adesso misuriamo l'altezza anche qui tutto a posto inserirò tutto nel programma maschio Marco quattro chili ok tutto bene sano perfetto andiamo a casa aspettiamo papà piccolino grazie per avermi evitato ciao e io vado al supermercato per comprare tutte le cose per bambino ecco a voi ci vediamo molto presto ciao 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 ciao